Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, oggi video book haul, era veramente tantissimo tempo che non ne facevo uno anche perché ultimamente non avevo acquistato chissà quanti libri quindi non avevo avuto diciamo l'occasione di fare un video di questo tipo adesso però un po' di libri li ho acquistati e quindi ho pensato di condividere con voi i miei acquisti ho approfittato di questo periodo di salvi quindi molti dei libri che vedrete li ho acquistati ad un prezzo veramente eccezionale ma comincio subito e vi mostro il primo libro che ho acquistato che è Il Segreto di Riverview College di Susan Goga io l'anno scorso avevo letto di questa autrice I Misteri di Cholkill, è un libro che mi era piaciuto molto, mi era piaciuto il suo stile le atmosfere che lei descriveva, mi era piaciuta la storia e quindi quest'anno quando ho visto questo ho pensato di comprarlo e di provare a leggere anche questo è un libro ambientato a Londra nel 1900 racconta la storia di Matilda che dopo la morte dei genitori va ad insegnare in un college abbastanza prestigioso di Londra perché vuole comunque affermarsi e diventare indipendente, ha un bel rapporto con le sue allieve, il suo lavoro le piace in particolare c'è un'allieva Laura che è una delle migliori, una delle più sveglie esuberanti che però un giorno sparisce perché va con il suo tutore a fare un viaggio e da questo non fa più ritorno a Matilda sembra molto strana questa cosa anche perché su questa sparizione diciamo ci sono un po' di silenzi all'interno del college la preside stessa non ne vuole parlare quindi lei si insospettisce poi un giorno riceve una cartolina dove trova un codice che la condurrà direttamente nella stanza di laurea dove troverà un diario segreto che comincerà a leggere e quindi verranno fuori una serie di misteri ovviamente io il libro non l'ho ancora letto quindi non ne so molto di più però devo dire che la storia mi attira moltissimo poi ho deciso di comprare un libro di un'autrice che per me è nuova sto parlando di Lucinda Rilei io non avevo mai letto nulla di questa autrice ho comprato Le Sette Sorelle che è il primo libro della saga Le Sette Sorelle appunto e io per questo devo ringraziare Claudia che è una ragazza iscritta al mio canale che ha messo un commento sotto un mio video e chiedendomi appunto se avevo mai letto libri di questa autrice ed è stato proprio grazie al suo commento se io sono andata in libreria a cercare un libro di questa autrice perché diciamo che io ero attratta da questa autrice ma in qualche modo non mi decidevo mai a comprare un suo libro il suo commento mi ha in qualche modo stimolato l'acquisto mi ha un po' risvegliato questo mio desiderio di leggere questo libro insomma di questa autrice e ho deciso appunto di recarmi in libreria e acquistarlo quindi saluto Claudia con affetto e la ringrazio per avermi diciamo stimolato all'acquisto ho deciso di prendere questo perché questa è una saga che mi attirava già da un po' di tempo quindi ho pensato di partire da qui è la storia di un uomo che decide di adottare delle bambine e va a prenderle in posti diversi del mondo a ognuna di loro decide di dare il nome di una stella ed è una stella che fa parte della costellazione le Pleiadi che è la sua costellazione preferita lui riesce ad adottarne sei ma il titolo del libro è sette sorelle perché in realtà voleva adottarne sette solo che la settima non è mai riuscito a trovarla la storia inizia con la morte di quest'uomo e con una strana eredità che loro ricevono perché trovano in giardino una strana statua con una specie di globo che è quello che poi viene riportato anche in copertina e su questo globo sono incise delle coordinate queste coordinate serviranno a far capire ad ognuna di queste sorelle qual è il luogo nel quale loro sono state adottate quindi quali sono le loro origini e comincia una ricerca per ognuna di loro anche se in realtà ognuno di questi libri della saga narra la storia di una sola delle sorelle questo è il primo quindi cominciamo con la primogenita che è Maya che incuriosita dallo scoprire quali sono le sue origini volerà fino in Brasile e lì ovviamente cercherà degli indizi e cercherà di capire qual è la storia della sua famiglia e insomma in generale la sua storia io ho iniziato a leggerlo da pochissimo tempo quindi non sono arrivata diciamo molto lontano con la storia però quello che posso dirvi è che per il momento mi sta piacendo parecchio vediamo come andrà avanti però mi piace molto ovviamente questa è un'autrice che scrive libri diciamo un pochino più leggeri quindi non si tratta di letture particolarmente difficili o impegnate però è perfetto per l'estate poi in generale io quando leggo voglio rilassarmi e quindi mi piace anche leggere cose molto leggere per adesso mi piace poi ovviamente vi farò la recensione devo aggiungere però che quando ho comprato questo libro l'ho fotografato e ho messo la foto sul mio stato di whatsapp la zia del mio compagno l'ha visto e ha pensato di prestarmi anche altri due libri che fanno parte della saga quindi io ve li faccio vedere però questi due non li ho acquistati io non sono i miei sono i suoi me li ha semplicemente prestati e mi ha dato la ragazza delle perle e la ragazza nell'ombra credo che questo sia il terzo libro la ragazza nell'ombra e la ragazza delle perle credo che sia il quarto libro quindi in questo momento non ho il secondo libro della saga però ho già il terzo e il quarto quindi sicuramente poi andrò a prendere il secondo per leggere poi anche questi due credo che questo racconti la storia di star che è una delle sei sorelle appunto e questo credo che racconti la storia di cece che è l'altra delle sei sorelle però non ho letto molto perché ho paura che venga svelato qualcosa che io ancora non voglio sapere perché devo ancora leggere il primo libro e non vorrei mai che venissero fatti dei riferimenti quindi ho preferito non leggere troppo insomma ho letto proprio il minimo indispensabile per fare il video e per parlarvi appunto anche di questi due che però non fanno parte del book haul perché questi vi sono stati prestati invece un libro che ho comprato io è questo Psycho di Robert Bloch io questo lo avevo già letto tantissimi anni fa lo avevo preso in biblioteca quindi non avevo il libro l'ho trovato ad un prezzo che è praticamente regalato perché l'ho pagato 50 centesimi al mercatino dell'usato e ho pensato di comprarlo perché è una storia comunque che mi era piaciuta e volevo avere il libro tra l'altro da questo libro è stato tratto il famosissimo film omonimo Psycho di Hitchcock quindi penso che tutti conosciate la storia è un libro che sicuramente non ha bisogno di presentazioni quindi vi dico semplicemente che l'ho acquistato perché volevo averlo e magari anche rileggerlo in questo libro è compreso anche Psycho 2 che credo che sia diciamo un po' il seguito credo che sia la storia di Psycho una volta uscito dall'ospedale psichiatrico e non so assolutamente come sarà Psycho 2 perché di solito i numeri 2 di queste cose ho sempre un po' paura che siano troppo banali e scontati comunque per il momento ho intenzione di rileggermi Psycho 1 e poi vediamo se leggerò anche Psycho 2 comunque vi farò sapere e vi terrò aggiornati sempre a 50 centesimi al mercatino dell'usato ho trovato Incubi e deliri di Stephen King io ragazzi vi devo fare una confessione lo so è una cosa imperdonabile ma io non ho mai mai dico mai letto nulla di Stephen King e lo so che è strano ed insolito perché una persona appassionata di libri thriller, di horror, di paranormale dovrebbe aver letto quasi tutti i suoi libri invece io non ne ho mai letto neanche uno sono sincera lo ammetto ho pensato però di rimediare a questa mancanza e di acquistare Incubi e deliri e ho scelto questo perché siccome io non sono sicura che mi piaccia lo stile di quest'autore ho pensato di iniziare da una raccolta di racconti quindi questo anche se è un libro molto alto come potete vedere è una raccolta di racconti e quindi insomma sono racconti brevi quindi posso cominciare ad entrare un po' a contatto con quest'autore leggendo qualcosa di breve e quindi di racconti tutti diversi che raccontano comunque storie diverse mi è sembrata insomma un'ottima occasione per capire se mi potrebbe piacere questo stile perché in questo modo posso leggere un racconto poi magari leggerne un altro dopo un po' di tempo leggermene magari uno in spiaggia perché sono brevi quindi insomma capire un pochino se è un libro, se è un autore scusate che mi potrebbe piacere oppure no e ho pensato di iniziare da questo perché come vi dicevo l'ho pagato 50 centesimi e mi sembrava un'ottima occasione un'ottima offerta come ultimo libro ho pensato di prendere questo l'amore ai tempi del telefono fisso di Gianluca Morozzi se avete seguito i miei video precedenti sapete benissimo chi è Gianluca Morozzi perché ve ne ho già parlato in tutte le salse quando faccio riferimento al suo libro Radio Morte che ho letto l'anno scorso che mi è piaciuto tantissimo e che io vi straconsiglio volevo leggere un altro libro di quest'autore in realtà volevo leggere Gli Annientatori però non sono riuscita a trovarla in offerta in realtà non sono riuscita proprio a trovarlo neanche a prezzo pieno ho trovato questo e ho pensato che poteva essere un libro carino e comunque anche curioso da leggere anche se in realtà non si tratta di un romanzo si tratta di in un certo senso un'analisi sociologica fatta ovviamente con toni molto divulgativi e molto leggeri dell'amore nelle varie epoche e con i vari mezzi di comunicazione quindi si parte dal telefono fisso per arrivare ai giorni nostri quindi lui fa proprio un'analisi dell'amore vissuto ai tempi del telefono fisso del cellulare, di whatsapp, di facebook insomma fa una serie di analisi dell'amore vissuto nelle varie epoche e con i vari strumenti che sono usciti via via ovviamente questo a me incuriosiva tantissimo perché io l'amore ai tempi del telefono fisso l'ho vissuto veramente perché io ho davvero dovuto telefonare a casa sul telefono fisso del mio ragazzo per poter parlare con lui quindi parlare prima con sua madre oppure con suo padre oppure con sua sorella a volte sentirmi dire no sta studiando non te lo passo chiama dopo quindi tutte le cose che adesso non esistono più perché adesso lo chiamiamo direttamente sul cellulare e non ci sono più filtri perché non dobbiamo più parlare con la madre con la sorella con il padre parliamo direttamente con la persona che ci interessa quindi è molto più semplice io invece ho vissuto l'amore ai tempi del telefono fisso appunto e quindi insomma mi sono vissuta anche i primi tempi magari l'imbarazzo di telefonare a casa di dover parlare con la madre perché comunque io quando avevo 16 anni 17 anni magari ero anche un po' più timida di adesso quindi dovevo prendere coraggio tirare sul telefono e rischiare che mi rispondesse qualcun altro e dire chi ero chiedere se potevo parlare con lui quindi era tutto molto complicato poi tra l'altro noi al telefono ci stavamo tantissimo tempo passavamo delle ore al telefono quindi diciamo che il telefono è stato sicuramente un mezzo attraverso il quale noi abbiamo vissuto una parte della nostra storia d'amore quindi non potevo non avere questo libro non potevo non leggerlo questi sono tutti i miei acquisti infatti di libri fatemi sapere nei commenti se anche voi avete comprato qualcosa in questo periodo eventualmente che cosa avete comprato io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme